Sono Luca Sirtori, ho 44 anni, sono sposato con Patrizia e papà di Marco e Aurora. Vivo a Rovagnasco dove la mia famiglia abita da 120 anni. Sono laureato in storia contemporanea e lavoro nel settore dei media televisivi. Sono appassionato di storia militare, sport motoristici e paracadutismo. Ho prestato servizio di leva come carabiniere e sono rimasto legato ai valori dell'arma. Da 5 anni sono presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Segrate. Ho deciso di candidarmi per restituire alla comunità parte di quello che ho ricevuto nel corso dei miei anni. Metterò a servizio di tutti la mia professionalità e i miei valori. Segrate viene da 5 anni di grigiore, incuria e declino. Voglio rilanciare la città e restituire ai segratesi la qualità di vita che meritano. Da 5 anni la città vive crescenti episodi di criminalità, furti, rapine, spaccio, vandalismo. Riportare sicurezza e legalità segrate sarà il mio primo impegno. Il mio nome e la mia storia sono una garanzia di dedizione alla città. Chiedo il tuo voto per progettare insieme, finalmente, una città moderna, sicura, innovativa e ricca di opportunità per tutti.